Hello, buongiorno, buongiorno a tutti, ragazzi, signore e signora, bella, oggi facciamo un po' di vocabolario, facciamo la lettera A, avandamento, infine la lettera B, ha già scegliuto un vocabolario di Giuseppe Giacco, vocabolario napoletano, sembra lo sito Vesuvio Web, ha alcune restrizioni, quindi mi limito a leggere solamente, allora, avandamento, avandamento, vantamento, millanteria, vanteria, to boast, you know, boastful, avanzar, avanzare, or essere creditore, to proceed, to keep going, or, most important, even to have a credit, to somebody. Avanzamiento, avanzamento, avanzatielo, attempato, this is a diminutive, a nice way to call me, I am avanzatielo, 58 years old, I am avanzatielo, you know, I am ahead with age, attempato, avanzato, avanzato, here we can note that we write both the same, both in Neapolitan and in Italian, but in avanzato, we omit the final vowel, so avanzato, in Neapolitan, avanzato, in Italian. Avanzo, 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 avascia, abbassare, avascia escil, abbassare la cresta, means to say, hey, my friend, keep it calm, keep it down, okay, don't, you know, don't be so, so high, so boastful, echel, echel, echel in Neapolitan are the, this one, no, okay, but in Italian, we say that, the idiomatic, we say, la cresta, that is the cresta of the, of the cock, you know, avasciarse, abbassarsi, reflexi, no, o degradarsi, abbassarsi is to knee, no, to go down, or degradarsi to degrade, okay, in so many figurative sense. Avast che ca, basta che ca, it's enough, okay, avastà, basta, avastandement, bastantemente, avere, avere, to have, si usa solo come ausiliario, nel senso di possedere si usa tenere, pus de, avea, dovere, avarranno, avesse, avita, aviva, avria, avria tenere, dovrei tenere, I could have, I could own, avallina, magistratura che si risiedeva nel palazzo dei principi di avallino e spediva le lauree, oh mamma mia, ave maria, ave maria, very simple, avigliata, quando il parte si presentava particolarmente complicato, il parto, il futuro padre si recava nella più vicina chiesa a suonare nove rintocchi di campana, oh that is nice, I didn't know that, avigliata, when the baby new life born delivery was particularly difficult, the future father, were, were used to go to the closest church to ring, to sound nine ticks of the bell, ave rabbo, ave rabbi, parole dette da Giuda mentre baciava il Cristo, saluto da traditore, ave rabbo, ave rabbi, this is the words of Giuda while kissing Jesus, so it's a traitor salute, averno, averno, avito, avero, arbero, tree, avero, avero, davverso, sul serio, o vero, aver, o veramente, davvero, sul serio, serious, really, avvertire, avvertire, ammonire, avvertire, to notice, to, how to say ammonire, to, it's like to say to, to scold, you know, averza, 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 is a province of Naples, i averza, andare al manicomio criminale, i averza, che i vi si trova, to go to the mad criminal hospital, mental house, che i vi si trova, aveto, aveto, avuto, you had, you have had, avvizzare, avvizzo, avvizzo, used to, not to somebody, to be, essere avvizzo, means to be used, acquainted with something, avvizzo, tu, mi avvizzo, you have to notice me, you have to call me, you have to tell me, avvizzo, 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 mi avvizzo, past, did you, did you advise me, mi avvizzo, 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 the difference here, guys, you can see, Neapolitan 1V, Neapolitan, Neapolitan 1V, Italian double V, that is unusual, because usually we always say that Neapolitan, the double consonant, is very common, you know, not in this case, avvizzo, 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 notice, no, the same, avvità, avvità, evitare, to avoid, avoglio, 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 ivory, the elephant, the elephant corn, avviso, avvizzo, avvità, avoglio, 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 the same, avvotà, muro, bastian contrario, avvità, muro, bastian contrario, is an Italian idiomatic sentence to identify somebody that for his own principle, he's always against anything, you know, auto, auto, car, automobile, avdrettanto, avdrettanto, otherwise, avvronzo, bronzo, avrusca, ruschia, avumaria, again, ave maria, avurioso, 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 superbo, you know, bold, superb, antipatic, you know, showing avrosto, avuroso, avquote, avurioso, the scavenger, avvortour, avortour, avotour, avventoio, the spugna, inzuppare, to soak. Letter B, lettera dell'alfabeto che nelle forme antiche del napoletano spesso sostituisce la V, o BIR, o VIR, ba, ba, babbalà, alla bontà divina, babbaluscia, it's common babbaluscia, it's nice, babbaluscia scioperato, scioperatamente, alla babbaluscia, scioperatamente, babbalucco scioperone, babbalucco is always like loco, you know, mad, you know, stupid, babbaluscia, but babbaluscia means also chiocciola lumaca, chiocciola lumaca, or pozzanghera, water spot, scala babbaluscia, la scala a chiocciola, you know, the round, the round spiral ladder, babba, babba, that is funny, that is funny, because I didn't know that babba can means, babba, is a babbasona, you know, babbasona scioccone, but it means also ragazza prokache, you know, he's a sexy girl, but at the same time also ovindinova, you know, the penis, that is funny, this one, because I didn't know that, it's new to me, so if you say babba, means to say loco, stupid, or a hot, hot girl, or penis, ovindinova, in the, in neapolitan, uh, numbering, uh, the penis is 29, that's why we use, uh, you often joking ovindinova, especially when we, we play the tombola. babbasone, scioccone, babbasso, babuasso, inetto, sciocco, babbele, babbele, the tower of babbel, babbilano, uomo inabile a generale, impotente, unable to, to fertilize, impotente, babbilonia, not babbilonia, but in neapolitan, we use, uh, also to describe the confusion, you know, a mess, you know, and a babbilonia, it's a mess, we, with all respect to the ancient babbilonia, babbilush, portiglia, the bolo, you know, portiglia, bolo, babbilush, merlano, the, I don't know this one, I have to check, it's a kind of, uh, fish, babbilus, o babbilus, il merlano, pesce, merlangus vernalis, babbio, 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 a moina, moina is, um, how to say, how we can say in english, le moine, fare le moine, no, uh, it's like when a dog see his owner, you know, he start, uh, jumping and, uh, happy, you know, uh, uh, or we use also for the naughty, uh, babies, you know, fare le moine, no, or, or, uh, um, when, uh, the girl or the boy try, trying, try to seduce, try to, you know, to get attention, you know, fare le moine, babbione, babbione, ah, this is funny, this is, we use, uh, very often on the street, it, the language in the joke, when we saw, uh, that is offensive, I mean, to say, uh, when we, um, when we, when we are joking, uh, about, uh, an old, uh, an old lady, uh, gold digger, you know, or, uh, uh, antipatic, you know, it's a, it's a antipatic figure or attitude, we used to call a vecchia, a vecchia babbione, this old, uh, you know, babbino, is the monkey, kind of monkey, uh, babbino, babbione, babbione, baccalà, guys, this is one of the most famous words about Neapolitan food, o baccalà, il baccalà, is, uh, o baccalà secco, uh, baccalà secco, or o baccalà spugnato, ammullato, okay, so, is the, oh, mamma mia, I'm trying to remember, the codfish, the famous codfish, that is famous, not only in Naples, but in so many parts of the world, as we know, but, um, in Naples, we use, uh, baccalà secco, dried, dried baccalà, uh, very similar, like, in Norway, you know, it's North Europe, and, uh, baccalà spugnato, ammullato in the water, you know, we, we, especially in Christmas, it's famous, the baccalà, in Christmas time, we are, it's a tradition to eat the, the, the baccalà, fritto, uh, ah, insieme o capatone, o baccalà e o capatone, e l'anguilla, e, insieme a, eh, ammullato, oppure, eh, credulone, ammullato, signishpugnato, signishpugnato, it means to say, eh, softened in the water, okay, uh, impregnated water, eh, credulone, but it's also used, ma si popono baccalà, signage, please, ma si popono baccalà, un credulone, somebody that believing, uh, you know, a believer, you know, eh, that believe anything you throw at him, baccalaiola, of, uh, uh, feminine of baccalaiola is the baccalà vendor, especially on the street, you know, we have our strolls, in Naples, it's famous, eh, post, eh, o garroch, o garroch, or, we have a fixed station, we call, o post, uh, lo baccalà, lo, per omus, uh, ah, guys, I love colesterone, baccalaiolo, venditore di baccalà, baccanalio, baccanale, baccarulo, cul bianco, uccello, it's a, uh, bird, baccella, listello fra le scanalature di una collana, is, uh, we are talking of, uh, um, a necklace. Bacchetta, bacchetta, the one of orchestra director, or any kind of bacchetta, or le bacchette per, eh, asia, cinesi, giapponesi, coreani per mangiare, the sticks, no, the chopsticks, we call bacchette. Cumanà bacchetta, eh, uh, this is, uh, identity, this is figurative or the orchestra director, no, because, uh, cumanà means to say to command, command, but you command, uh, like, like a dictator, like an orchestra director, you know, you must follow exactly his order. So cumanà bacchetta, to command with, you know, very severely, strictly, spadroneggiare, spadroneggiare che cumanà bacchetta, spadroneggiare, noi, we use, uh, practically to, um, 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 to identify somebody that, in, in any kind of ambience, public ambience, want to command the situation, want to take over the people, you know. Then it can be in a group of friends, in the street, no comment, it's quite common, uh, or in, in any ambient. Baccholo, bastone, o baccholo, o bastone, the, the, uh, how to call bastone? The walking, bastone, the walking bastone, no, or any kind of bastone, okay, bastone for martial arts, uh, anything, anything. Bada, badare, badare, badare ai fatti suoi, mind your affairs, badare ai fatti propri, a badessa, badessa, badessa. All right, guys, it's enough. I read, uh, 20 minutes, it's enough of vocabulary. I read the first, the left column of, uh, the left column of, uh, page, uh, 28, and the left column of page 29, okay, guys? But anyway, it's a very well done, it's very well done, uh, because for each word, uh, he, he, he brings to you, uh, uh, more than one, uh, 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 meaning, uh, meaning, uh, meaning, okay? So it's very interesting, uh, um, so based, uh, based on the initial, uh, uh, okay, for example here, okay? uh, uh, baccalà, um, dot, baccalà, okay, means to say, uh, masculine, okay? Uh, and then, as a second meaning, it gives you, uh, baccalà spugnato, baccalà ammollato fig, figurativo, figurative credulone, okay? So for you it's baccalà, feminine, di baccalà, okay? So it's easy to you to understand, okay? Okay! Or for example, you can find here baculo, bastone, uh, the abbreviation lat is from latin baculum, okay? Or, but, uh, uh, okay? All right, guys! Um, just a moment, please, huh? I have my folder, Neapolitan studies. I've collected some nice material, I have to say. I mean to say, different from the thousands of Neapolitan material you may find in internet, but I'm not so interested in my channel, okay? Because I want to bring something, uh, uh, more on the traditional, on the correct way of how to, uh, uh, to read the traditional Neapolitan songs, uh, opera, poems, you know, I want to bring something much, much more than the usual overlooked, uh, and over-searched, uh, about, uh, Camorra and, uh, street Neapolitan language. Allora... Capitolo primo, il cinquecento, 16th century, un poeta musico cantore, passaro bernaldino detto velardiniello ok let's finish this video with with a poem ok storia le scendane arreto this is my first time reading this one ah guys it sounds approximately easy to me to read let's check if i'm correct or not it's first time centa an arreto che era viva vava nanda che fosse vartum me o coglione ricea non certo che la uscilla la rava a tempo che squigliaia d'usciata mona c'era un re marrocco che s'armava panzera l'anzalonga e toracona e poi eva a trovare il mamma lucca con che balestra spigarda e cotrabucca quello fu tempo che bertha filava con che il roccio vivra all'antica portava braga e nulla le leggiava quattro va a cola tricea la pica si per la via una femmina passava le dicevano addio la benedica ma su uno parla e che la secco ruzza chi te pensi che sia mona maruzza I love this ho bella usanza e laddove si squigliata perchè non torna o roccio tempo antico pigliava colo bisca una chiamata centau sulluzza hanno trungo dei figli le femmina addorose regolata d'ombretta saunevano a nuvica danzano tutte in ghietta o buona fede la chiarantana e poi a spontapede dove si trova mai tanta alianza lo marito si cara la moglie che a mano a mano andravano a una danza con quella ceramella tanta all'era veniva a chioppa a chioppa una paranza con quella antica e semplice maniera la vecchia a quello tempo era zittiello quello non era tempo ammagagnato le femmina assettate a mezzo a ciazza non c'era un uomo che avesse parlato che avrenava una cagliola la ciazza quell'uomo che in quell'anno era insurato era tenuto per galla di razza l'uno con l'altro lo mostrava a dito quello che passa chi l'è lo zitto I love this amazing how to discern the engaged guy from the soltero from the free tutte le buone usanze sull'assata e rosa diventano papagna avvicinata l'anghietta e la libertà a quello che avevano con la guarnaccia e le nuci conciate non c'erano non c'erano le frode e le magagne e avevano abbracciata otta dieci più gianca e rosso che le melariche quella con la connella descarlata portava la perna grosse come un'andrita la faccia senza cuoncio angelicata che trattava come una calamita o vecchia o zitta o donna ammortata pare che fosse sia margherita oggi l'hai quanta grana con ma uva nando la festa poi fatta la prova gli ucchi che facevano a campagnano a scarregare varilla ed a squariglia a stirarmi la cortina a mano a mano a segutare chi sta parapiglia e poi cagnare gli ucchi o tempo umano quando ci penso l'arma s'azzottiglia le donna a prezzanzina a cuvalera tutti i giorni fino a notta nera vediamo in italiano let's see in italiano the meaning that is beautiful mamma it reminds me when I was a kid and playing these games like parapiglia anona san a scarrega varilla means to say to 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 discharge the guilt to somebody no storia di cent'anni fa italian cento anni fa quando era viva nonna prima dell'avvento di Bartolomeo con leoni diceva un tale che l'uccello rendeva fertile la terra al tempo in cui nacque il Chiatamone c'era il Chiatamone è una zona di Napoli il Chiatamone c'era re marocco che s'armava di panciera lancialunga e corazza e poi andava ad affrontare i turchi con balestre alla barde e con catapulte era il tempo che Berta filava con quel dolce vivere all'antica si portavano branche e nessuno ti derideva quattro uova a cola ti diceva la gazza se per la strada passava una donna le dicevano dio ti benedica ora se uno parla e quella si cruccia chi ti credi che sia donna Mariuccia oh bella usanza dove sei fuggita perché non torni al dolce tempo antico prendevi con il vischio ad un richiamo cento uccellini a un tronco di fico le donne profumate di bucato in dobletto si univano in un vicolo danzando in coppie oh buona fede la chiaranzana e poi il puntapiede dove mai si trova tanta lealtà il marito così caro alla moglie che a mano a mano entravano nella danza al suono della ciaramella tanto allegra vedevi a coppia e coppia una brigata con quell'antica e semplice maniera il vecchio allora sembrava un giovane sposo con i pantaloni con le stringhe e con il giubbetto quello non era tempo di magagne le donne sedute in mezzo alla piazza non c'era uomo che facesse commenti perché la persona linguacciuta sfernava in gabbia l'uomo che quell'anno prendeva moglie era considerato gallo di razza l'un l'altro se lo mostravano a dito quello che passa ora quello che è lo sposo tutte le buone usanze sono lasciate le rose ora diventano papaveri le donne di vicinato insieme in libertà in quel tempo andavano ai bagni con le sopravveste e le teste acconciate e non c'era né frode né bagagna e andavano abbracciate a otto a dieci più bianche e rosse delle mele più belle quella con la gemelle con la gonnella a color vermiglio portava perle grosse come nocciole il viso senza belletto angelicato che ti attraeva come una calamita vecchia giovane o donna maritata sembrava fosse la signora margherita oggi le hai quattro a grano come le uova prima della festa matrimoniale le hai già provate i giochi che facevano a campagnano a scarica a barile scariglia a stirami a cortina a mano a mano a inseguimi questo trattieni i prendi e poi cambiando gioco ho tempo a misura d'uomo quando ci penso mi si stringe il cuore le donne a pietra in grembo a nascondino tutto il giorno fino a notte fonda that is nice all right guys thank you very much e spero che pure stasera mi ha già portato un po' di galleria un po' di nostalgia devo dire la verità perché poi leggendo queste poesie stavo parlando 500 o 600 stavano avevano pure un po' di nostalgia di certi tempi no? alle volte alle volte t'adduman no? you wonder it was better that time 500 years ago or it's better nowadays of course we cannot generalize for everything because we have to research carefully 500 600 400 years ago what we are going I mean to say it's easy to talk reading and maybe watching some movies talking about you know representing trying to represent those times it's the same that we usually we are we are easy to judge the middle age is the worst to us for us Italians living in the actual era but on the other side there is there are some literate guys people professor that they they like so much the middle age so you know what you have only to we have also to you know to open our vision you know we have to try to dig in the pro and the contras the problem you know what is the real problem is that the because the human being the homo sapiens is a big fan of the violence and the depression side of the life so also you can find this also in the in the writings you know in the history lecture lectures and 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 so and so for us nowadays it's not that easy to to really figure out how much bad and how much good it was in the middle age for example okay and but I think the most that is we disapprove is the naturally I mean to say is the total lack of technology technology you know so I mean to say this is I think is the first trigger to to let us always say no I would never live in that time I prefer nowadays but I mean I mean nowadays comparing with with the most of those times doesn't change much the the situation I I mean to say if I mean the the violence on the streets and what it could happen to you going out any day of the year going to work for your regular routine you can die any moment that that is the same exactly the same of centuries 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 and thousand years ago I mean I mean we want to make a list ok now there is now there are we have technology but how many victims is doing the technology every day every freaking day car accidents shootings bombing accident on work machinery faulty faulty machinery and I mean come on really so I can't see any change you know what I can't see any change in in if we have to figure out the violence of the uh homo sapiens sapiens of nowadays and the homo sapiens of hundreds and hundreds years ago or thousand years ago and I don't know doesn't sound me uh so so different you know alright guys thank you very much I went over out of the truck ok alright guys thank you very much see you next bye